È ormai diventato uno scandalo, uno scandalo anche giudiziario, visto che di ciò si è interessata la magistratura e nei giorni scorso anche la Guardia di Finanza ha fatto accesso negli uffici comunali per sequestri, per perquisizioni, ma anche per la copia del contenuto di cellulari e di computer. Ma si è scoperchiato un proprio vero vaso di Pandora, che ha mostrato a tutti come venivano gestiti facilmente e opacamente i denari pubblici. Per questo nei giorni scorsi mi sono rivolto al prefetto per dimostrare tutta la mia preoccupazione, ma ho anche presentato in Parlamento una interrogazione parlamentare diretta al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero della Pubblica Amministrazione perché valutassero l'opportunità di attivare i servizi ospettivi, ossia di mandare ispettori. Mi sono rivolto anche al Ministero dell'Interno, il quale proprio in questi giorni sta studiando sul proprio tavolo un dossier, sul tavolo del Ministro dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro stesso. Però di fronte a tutto quello che sta emergendo il Sindaco di Pesaro e oggi ero parlamentare del PD finge di non sapere nulla, finge di non sapere ciò che è avvenuto proprio durante la sua legislatura. Ho coniato un astag, Ricci risponde perché prima o poi Ricci dovrà rispondere indipendentemente da quale sarà l'esito dell'indagine penale, dovrà rispondere ai cittadini pesaresi e dovrà rispondere anche ai cittadini marchigiani per chi come lui ha la vellità di candidarsi alle prossime elezioni regionali. Ci sono tanti casi specifici, uno che ha esaminato in particolare è quello del bienio rossignano. Sì, dovete sapere che con legge del 2017 veniva istituito il bienio rossignano e nel 2018 e nel 2019 lo Stato consegnava al Comune di Pesaro e al Comitato Promotore l'importo di 700 mila euro che andavano a rendi contati entro il 30 marzo 2020. Nessuno ha mai rendi contato, dopo quattro anni nessuno aveva mai rendi contato e ciò è stato scoperto proprio grazie alla interrogazione che ho presentato e a ben tre accessi agli atti al Ministero della Cultura. Solamente dopo due solleci del Ministero della Cultura questa rendi contazione è arrivata e proprio in questi giorni sto leggendo gli oltre 800 fogli di questa rendi contazione sulla quale c'è molto da dire perché potremo vedere cene lucugliani, potremo vedere un uso indiscriminato del noleggio con conducente e una gestione ancora una volta allegra della finanza pubblica e di soldi che sono di tutti i cittadini.